Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno il coraggio, coraggio di essere umani, l'amore... Amico è, un programma presentato da... Iperpneus e Pneus Market, da oggi tanti servizi in più. Ed eccoci giunti, buonasera, buonasera a tutti e purtroppo siamo in conclusione di stagione. Questa è l'ultima puntata, precisamente la quindicesima, siamo insieme da ottobre, siamo giunti oramai alla fine di aprile, però purtroppo siamo in conclusione. Abbiamo incontrato tante scuole, tanti sport, quest'anno veramente è stata una stagione molto ricca, soprattutto per il progetto di aiuto che stiamo realizzando con il paese di Montegallo, colpito dal sisma del centro Italia molto recente, ma anche oggi parleremo proprio di aiuto, perché la scuola presente, che è il secondo circolo, in modo particolare, il presso di Borello, sta realizzando qualcosa di molto molto particolare. Lo andremo a scoprire durante la puntata, ma per il momento sigla. Credo negli esseri umani Credo negli esseri umani Credo negli esseri umani Che hanno coraggio, coraggio di essere umani Credo negli esseri umani Credo negli esseri umani Credo negli esseri umani Che hanno coraggio, coraggio di essere umani L'amore, amore, amore ha vinto, vince e vincerà L'amore, amore, amore ha vinto, vince e vincerà Il secondo circolo di Cesena, anche l'anno passato abbiamo concluso il palinzesto col secondo circolo perché siamo un po' affezionati a questo circolo che tra l'altro parlo in gergo tecnico essendo un insegnante classe A quindi di prima categoria nel senso che ha tantissimi bambini e abbraccia quasi tutto il centro di Cesena ma in modo particolare perché ogni anno si realizzano progetti veramente importanti grazie anche all'associazione Genitori Famiglie in 3D Noi però come al solito prima di andare a conoscere meglio i protagonisti, i bambini e le maestre oltre che i genitori accompagnatori vogliamo andare a visitare la scuola vogliamo andare appunto con Matteo Amaducci e Salvo Conti a capire che cosa hanno realizzato anche quest'anno e allora andiamo subito con il primo progetto, Borello Vincere in 3D Vincere in 3D Vincere in 3D Fonzi Giorgio Salve, sono Stefania Rossi, la dirigente del circolo didattico di Cesena 2. Sono qui per presentare un progetto molto interessante che è iniziato già un paio d'anni fa e ha la prospettiva di proiettarsi nel futuro con una pluriannalità di almeno un quinquennio. Il titolo è An International Adventure. Il progetto viene realizzato dalle insegnanti con l'aiuto e l'affiancamento dell'Associazione Genitori Famiglia in 3D e la presenza di un madrelingua inglese. Attraverso la lingua inglese, situazioni di esperienze, di laboratorio, situazioni comunque attive dove i bambini sono in relazione tra loro anche a piccolo, grande gruppo e anche di interclasse e non solo per singola classe, vengono a contatto con una serie di esperienze e di contenuti che riguardano le educazioni trasversali, tra cui l'educazione all'alimentazione, all'ambiente, alla legalità, alla salute. Salve a tutti, sono l'insegnante Chiara Bussi delle classi seconde di Borello. Siamo arrivati al secondo anno di realizzazione del progetto e questo progetto sta interessando le classi seconde e le classi prime del circolo didattico. Le classi seconde quest'anno hanno realizzato, insieme alla madrelingua Lori D'Inerson, che sta svolgendo le attività con loro, un libro sull'educazione alimentare. Invece le classi prime si sono centrate soprattutto sull'educazione stradale e sul rispetto delle regole in strada. I bambini, insieme a Lori, eseguono delle attività improntate sul TPR. Praticamente, attraverso delle attività ludiche e col gioco, imparano il lessico inglese. Questo permette a loro di divertirsi e di interiorizzare meglio i nuovi concetti che stanno apprendendo insieme a Lori. Sicuramente l'utilizzo del TPR e del corpo permette ai bambini di integrarsi maggiormente e di conoscere insieme una nuova lingua, quindi di integrarsi maggiormente, di comunicare maggiormente, di sentirsi un gruppo. Soprattutto l'utilizzo del corpo li aiuta in questo contesto molto digitale in cui spesso i bambini usano poco il corpo, ma di più gli strumenti digitali. Sono Silvia Canali dell'Associazione Genitori Famiglie in 3D che da anni collabora col Secondo Circolo e vi voglio parlare di una novità nel progetto An International Adventure che è quella della realizzazione di una collana editoriale di libri in lingua inglese fatti dai bimbi del Secondo Circolo. Abbiamo iniziato quest'anno con un libro sull'alimentazione, The Hungry Rabbit. Continueremo con un libro sull'educazione stradale, sull'educazione ambientale, sull'educazione alla sicurezza a casa-scuola e per finire sull'educazione contro il bullismo. È un progetto ambizioso, è un progetto a lungo termine, ma noi crediamo nei bambini, crediamo nella loro crescita e crediamo soprattutto in questa bellissima collaborazione che c'è con la dirigente scolastica, con le insegnanti e con tutti i bimbi della scuola, dell'istituto. Hello, my name is Laurie Denison. Io sono l'esperta esterna di madrelingua e questo è il secondo anno che vengo nelle scuole a fare inglese con i bambini. Quest'anno abbiamo fatto un libro bellissimo, The Hungry Rabbit, la storia del coniglio rabbit. Imparo la differenza fra good food e junk food. I bambini hanno apprezzato moltissimo il libro e sono riusciti a tirare fuori la loro creatività e nello stesso momento hanno imparato sull'alimentazione. Anche questo prossimo anno continuiamo con questo progetto, con un altro libro, un altro personaggio, altri bambini, ma sono sicura che l'esperienza sarà altrettanto bellissima. Facendo questo libro in lingua originale non solo aiuta i bambini a imparare sull'alimentazione corretta, ma imparano con un'altra lingua. Di conseguenza l'impronto è più forte nel loro cervello perché appunto devono ricordare di più perché hanno un'altra lingua, informazione nuova. E loro lo prendono sempre in forma di gioco, creatività e sono più stimolati ad imparare e secondo me, e ho visto anche i risultati, lo prendono più velocemente. Allora siamo rientrati, come avete visto stiamo parlando di inglese, stiamo parlando di un progetto molto valido, molto complesso anche se vogliamo, articolato nella sua stagione scolastica, ma andiamo a presentare questa signora, questa maestra che si è resa disponibile proprio per coordinare il progetto d'inglese. Allora salutiamo con un grande applauso Lori Dineson. Ho detto bene Lori. Abbastanza. Ma chi è che rende possibile un progetto del genere, come anche tante altre attività che vengono realizzate nella scuola primaria, sicuramente l'Associazione Genitori, che è una preziosissima risorsa. Salutiamo con un grande abbraccio Silvia Canali, che è la presidente dell'Associazione Genitori Famiglia in 3D, che adesso non è più in dolce attesa come l'anno passato, se ve la ricordate, ma adesso sta allattando. Ha detto non posso venire perché sto allattando. E quindi ha mandato una delegata, quindi un altro genitore, che preziosamente collabora a tutte le iniziative della scuola primaria di Borello. Accogliamo con un grande applauso la signora Eleonora Mosconi. Grazie Eleonora, grazie Silvia, soprattutto grazie Lori, madrelingua, quindi è un'altra risorsa, uso ancora questo termine, perché è importantissimo avere all'interno di una scuola una madrelingua, perché l'inglese si impara sul campo. Dopo sentiremo anche da lei se questa cosa è vera, ma insomma mi sento di dire in tutta sincerità che è vera. Andiamo però a vedere il secondo progetto adesso, perché i bimbi sono stati attenti, come sapete alla fine del primo tempo ci sarà un gioco, il gioco delle domande che ci farà la nostra maestra Chiara. Andiamo a vedere che cosa invece si sta realizzando con Adventura Solidale, quindi un progetto di aiuto in modo particolare alle popolazioni e ai bambini colpiti dal sisma del centro Italia recente. Andiamo subito a voi regia. Salve, sono Stefania Rossi, la dirigente scolastica del Circolo Didattico di Cesena 2. Sono qui per presentare un progetto di educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e alla solidarietà. Il titolo è Adventura Solidale. Adventura Solidale mira all'educazione e alla solidarietà nei bambini, che è la prima forma di consapevolezza partecipativa da parte di ciascun cittadino attivo. Perché essere solidale non significa solo e semplicemente provare buoni sentimenti e un istinto di aiuto, significa compartecipare al benessere di chi abbiamo vicino anche quando si trova lontano e comparteciparvi sia nella quotidianità ma anche durante situazioni di emergenza. In questa scuola, nella scuola primaria di Borello, sono arrivati due bimbi dalla scuola di Visso coinvolta dai vari cicli di scosse e di terremoto che a partire dalla fine di agosto hanno caratterizzato la vita di una parte della popolazione italiana nel centro Italia e anche altre scuole del Circolo Didattico hanno insieme a Borello iniziato un dialogo di amicizia e di conoscenza con la scuola di Visso, con la scuola primaria di Camerino, con la scuola di Montegallo. Sul territorio romagnolo ci sono anche altre istituzioni che hanno avuto questo tipo di dialogo e nel tempo hanno fatto crescere un'amicizia, per esempio l'Istituto Comprensivo 8 di Forlì, l'Istituto Comprensivo di Cervia 2, il Circolo Didattico di Cesena 5. Tutti insieme ci troveremo in un grande evento finale lunedì 5 giugno. I bambini saranno i protagonisti, ripopoleranno la città e daranno, doneranno messaggi di pace, di amicizia e di aiuto a tutti coloro che li ascolteranno. Narreranno storie, faranno testimonianza attraverso i linguaggi che sono tipici dell'infanzia come la musica, l'arte, la danza, daranno testimonianza di amicizia e di capacità di poter tenere le fila di questa amicizia anche a distanza. Ospiteremo la scuola di Visso, la scuola di Camerino, la scuola di Montegallo e faremo insieme una grande festa. Sono Manuela Albertini, la coordinatrice della scuola primaria di Borello e oggi sono qui a presentarvi un progetto di istituto, l'Adventura Solidale, un progetto che abbiamo realizzato proprio per promuovere la solidarietà e l'aiuto reciproco. Nel nostro caso, in particolare la scuola primaria di Borello, si è gemellata con una scuola, quella di Visso, per favorire l'amicizia e la collaborazione nei confronti di territori, di popolazioni che sono state colpite da calamità naturali e, in questo caso specifico, della terremoto. Hanno collaborato con Noia per la realizzazione del progetto alcuni partner, in particolare Iperpneus, che ha sostenuto fortemente l'iniziativa, il Comune di Cesena, le associazioni Famiglie in 3D e l'associazione Genitori Dante Alighieri. Lo scopo dell'iniziativa è quello di far conoscere le criticità del territorio, non solamente locale, ma anche italiano in senso più ampio, e stimolare atteggiamenti di solidarietà, di aiuto reciproco, di collaborazione e di amicizia, attraverso il racconto di esperienze personali, che possono essere reali, cioè concrete, vissute, oppure anche inventate, che nascano dalla creatività dei bambini. I bambini, per questo loro proprio predisposizione all'amicizia, all'apertura nei confronti dell'altro, hanno recepito in maniera positiva e sono stati molto collaborativi in questo senso, anche perché hanno capito che è importante per essere cittadini attivi, democraticamente inseriti nel proprio contesto, darsi una mano e camminare insieme per la realizzazione di un fine, di uno scopo comune. Ed eccoci rientrati, abbiamo anche gustato quello che sta succedendo a livello solidale, quindi un aiuto importante, un progetto importante, ma siamo anche pronti per giocare, perché voi sapete che nel primo tempo di ogni puntata noi giochiamo, allora io consegno ufficialmente le domande, mi alzo e consegno ufficialmente le domande a Stefania, le domande ovviamente sui filmati, a Umberto, prego i giocatori qua che sono in alto nel loggione di accomodarsi per collaborare alle risposte alle domande, vi potete mettere dietro vicino a loro, perché adesso vi consultate, la maestra Chiara le leggerà, ma voi non aspettate la maestra Chiara, cominciate già a rispondere, perché avrete solo due minuti di tempo a partire da ora. La direttrice Stefania Rossi indossa gli occhiali nel video. Qual era il titolo del librone che si vede in apertura del secondo filmato? Rispondete, scrivete la risposta e andate avanti. Quanti sono i bambini di Visso che sono ospiti della scuola di Borello? Come si chiamano i due progetti proposti? In che giorno verrà svolto il grande evento finale del progetto Adventura Solidale? Quanti sono i libri che costituiranno la collana editoriale prevista dal progetto An International Adventure? Insomma, la regia oggi è stata un po' birbantella. Manca poco, manca poco allo scadere del tempo. Sì, manca un minuto, insomma, siamo a metà. Però vedo che i consigli nei vari gruppi, la squadra di Umberto e la squadra di Stefania, non mancano. 10, siamo quasi in conclusione. 3, 2, 1, stop. Allora adesso andiamo a vedere che cosa hanno risposto. Stefania legge la prima domanda e anche la risposta. Umberto leggerà chiaramente solo la risposta. E Chiara, la maestra, ci dirà se è esatta oppure no. Vai Stefania. La direttrice Stefania Rossi indossa gli occhiali nel video, sì. Cosa dice Umberto? Chiara cosa dice? La risposta corretta. E allora un punto per uno, un applauso. Adesso tocca a Umberto, seconda domanda e risposta. Qual è il titolo del librone che si vede in apertura del secondo filmato? Risposta? Non l'avete messa? Neanche noi. Neanche voi. Qual era? Il semaforo blu. Il semaforo blu. Ho detto che era cattivella sta domanda. Facciamo un applauso lo stesso al semaforo blu. Siamo ancora uno a uno. Tocca a Stefania di nuovo. Quanti sono i bambini di Visso che sono ospiti della scuola di Borello? Due. 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 I genitori già applaudono perché lo sapevano. Benissimo. Andiamo con Umberto. Come si chiamano i due progetti proposti? Come si chiamano i due progetti proposti? Disposta? Non li abbiamo. Non le avete messe. Stefania? Del progetto Adventura Solidale il 5 giugno. 5 giugno. Cosa avete risposto voi? Niente. Niente. Vabbè. Allora qual è il giorno? Il 5 giugno. Il 5 giugno. Vabbè. Intanto siamo 3 a 1 per Stefania. Andiamo con l'altra domanda. Cos'è la penultima? L'ultima. L'ultima domanda. Vai. 2, 2, 2 libri. 2 libri. 2 libri. Un supporto globale. Ci siamo facendo un'unione. Esatto. Fate una riunione. Stiamo facendo un'unione. Vai, vai. Puoi dirlo. Allora. Allora. Quanti sono i libri che... costruiranno la collana editoriale prevista dal progetto Amico e... Ah, quanti sono i libri. Ok, questa è la domanda. Internazionale. 2. Vai. Qual è la risposta? 2. Secondo voi? Avevo messo 1. Avete messo 1. E quindi? Maestra Chiara? Sono 5. 5 addirittura. Vabbè. L'avevo detto io che era birbante la regia oggi, che è stata birbantella. Le diciamo quali sono, maestra Chiara? Alimentazione, educazione stradale, educazione ambientale, educazione sicurezza, casa scuola e poi il rispetto degli altri con il bullismo. Bene, molto bene. Facciamo un applauso. Ci rimettiamo tutti a posto. Anche gli altri. Où state? Ma vi siete andati già a posto? Bravissimi. Va bene. Allora, qui si è ricomposto l'ordine, però noi a questo punto le vogliamo presentare, queste maestre, prima di andare dal nostro Daniele. Vogliamo presentare le due maestre che oggi sono venute a trovarci. E una l'abbiamo un po' già conosciuta, la maestra Chiara Bussi. E l'altra maestra presente è una conoscenza, già ci conosciamo dall'anno passato, quando facemmo quella tre giorni sulla legalità, la fiera di Cesena, molto bella, molto complessa, come poi altrettanto sono i progetti che stanno realizzando. Salutiamo con un grande applauso la maestra Ivana Bontempi. E allora, siamo quasi in conclusione di primo tempo, però noi vogliamo andare a trovare il nostro Daniele Carloni e la sua Iperpneus e Pneus Market Romagna, perché senza Daniele questa trasmissione non sarebbe mai andata in onda. A te regia. A te regia. Amico è un programma presentato da Iperpneus e Pneus Market. Da oggi, tanti servizi in più. Tornati in studio per quest'ultima puntata, quindicesima di Amico è di questa stagione televisiva, accerchiato da bimbi, abbiamo fatto il primo gioco, erano tutti insomma in fibrillazione con queste domande che la regia aveva, era stata un po' birichina, diciamo la verità. Era stata birichina o no? Sì, molto. Sì, ecco, qui dicono molto, dicono sì, però noi siamo arrivati anche al tempo di ascoltare altre cose, delle attività che si fanno all'interno della scuola primaria di Borello. Ricordiamo che poi la scuola primaria di Borello fa parte del secondo circolo, che ha anche tanti altri pressi che magari poi ci racconteranno le maestre. Ma adesso vogliamo andare a sentire uno dei genitori, importante dell'associazione Famiglia in 3D, che è stata istituita, adesso sentiremo anche quando, ma credo qualche anno fa, e che supporta in maniera corposa e proficua tutti i progetti che vengono realizzati nella scuola. E allora sentiamo. Eleonora, sei oggi in veste di rappresentante di questa associazione, innanzitutto quanti siete, perché è importante all'incirca così capire quanti siete, e poi come partecipate e come fate a reclutare i fondi, perché è sempre quello il problema, quindi come vi sostenete e come sostenete la scuola. Allora, il consiglio più o meno è formato da 12 mamme genitori, insomma, che tra virgolette in cui facciamo genitori e insegnanti, perché chiaramente gli insegnanti ci aiutano nella programmazione di quello che sono i progetti da presentare ai vari circoli, alle varie scuole con cui collaboriamo. Facciamo questi progetti, li strutturiamo in modo da poter supportare sia la didattica che gli aiuti che possiamo dare alla programmazione, appunto, e a qualcosina in più che proviamo a fare, come ad esempio An International Adventure, in cui abbiamo coinvolto l'Ori, appunto, per fare quest'ora di inglese in madrelingua con i bambini. Per in ogni classe? In ogni classe. C'è proprio un'equipe che lavora, che struttura e che decide un po'. Ci proviamo, insomma, sì, facciamo queste riunioni in cui... Ma in totale quanti genitori partecipano, quanti sono associati? Allora, mi sembra che siamo arrivati, perché è sempre in aumento, chiaramente. Meno male, meno male, certo. Mi sembra che siamo quest'anno a circa 600 soci. 600 soci, mi dici il territorio da dove parte, dove arriva? Il territorio comunque è quello di Borello. Quindi è solo Borello, è proprio un'associazione genitori che opera nel territorio di Borello. Mi sembra che siamo arrivati sui 600 soci. Ma 600 è tantissimo, perché poi i bimbi quanti sono? Il bacino più o meno è quello. Quindi quasi tutti. Sì, 600 soci nei vari anni, quindi magari c'è chi va, c'è chi viene, c'è chi torna, chiaramente, perché poi le famiglie sono quelle, i bambini sono quelli che hanno... Ma quello che ti chiedo, Eleonora, è solo la quota associativa che sostiene? No, assolutamente no. È chiaro che voi girate in continuazione. Ricordiamo che sono tutti volontari, eh. Facciamo un applauso al volontariato, per favore, perché si dimentica sempre che alla fine il volontariato è alla base di qualsiasi tipo di attività che poi diventa proficua, perché alla fine nessuno ha interesse, nessuno si deve tenere stretta la poltrona, come succede in altri casi, e quindi il volontariato a volte si pensa, vabbè, ma lo fa da volontario, allora ha meno valore. Invece ha dieci volte forse il valore. Noi proviamo, insomma, adesso non è che... Sì, noi praticamente proviamo appunto ad aiutare la scuola, sia la scuola che comunque appunto il territorio. Quindi i fondi li andate anche a ricercare? I fondi li cerchiamo, a volte partecipiamo a dei bandi con cui riusciamo a reperire anche a livello comunale dei fondi che poi dopo chiaramente vengono investiti nei vari progetti. e in International Adventure abbiamo chiesto un contributo alle famiglie, chiaramente perché è un progetto continuativo per un dato periodo dell'anno che appunto dal punto di vista anche finanziario ha avuto bisogno di... Allora ti chiedo, ti faccio un'ultima domanda e poi passo a Lori, vorrei approfondire un po' meglio questa cosa. Anche il quartiere ci ha aiutato per International Adventure. Ma per essere soci dell'Associazione Genitori, bisogna per forza essere un genitore della scuola o per dire una piccola azienda che è un genitore? Assolutamente no, chiunque può aiutare la nostra associazione Famiglia in 3D con una qualsiasi donazione, assolutamente. Quest'anno anche riusciamo già dall'anno scorso ad essere inseriti anche con il 5x1000. Quindi abbiamo anche questa opzione che chi può e chi vuole chiaramente può inserirci in questa piccola modalità di finanziamento. Grazie di cuore Eleonora, grazie a Famiglia in 3D. Facciamo veramente un grande applauso. Io poi anche oggi sono un po' di parte perché Famiglia in 3D conosco questa associazione bene e posso dire che può essere veramente un esempio per tante altre realtà peraltro importanti, peraltro onorevoli, ma che comunque possono sempre crescere. E Famiglia in 3D può essere realmente un esempio. Lori, sei entrata in questa dinamica di collaborazione? Da quanti anni che sei in questa dinamica? E soprattutto quali sono le gratificazioni? E' vero che l'inglese si impara sul campo? E' vero, è vero, è vero. Sono 4 anni, 5, 4 anni che ho iniziato con la Famiglia in 3D. Prima facevamo i corsi dopo scuola che si chiamano Let's Play e giochiamo, intanto che giochiamo parlo in inglese, insegno il vocabulario ai bambini. Sì, loro giocando non si rendono conto che stanno imparando, che stanno parlando in inglese. Quindi dalla prima alla quinta? No, no, ho iniziato con... Sì, in questi corsi qui erano dalla prima alla quinta. Invece adesso? Invece adesso faccio nelle scuole ogni setto con la prima elementare e quest'anno faccio la prima elementare e la seconda. Un'ora alla settimana? Sì. Sì, insomma, è tanto perché poi un'ora alla settimana... Ah, poi sono tante scuole. Sono tante scuole perché adesso, poi andremo da Chiara, ci faremo anche raccontare quali, da Chiara Ivana, quali sono le scuole che appartengono al secondo circolo e poi ci faremo anche dire qualcosa sulla scuola di Borello. Lory, ti dicevo, quale gratificazione incontri? Cioè, vedi che realmente i bambini rispondono a questa madrelingua? Come ti vedono? Ti vedono come una maestra o ti vedono come l'esperta che arriva da fuori? Oppure ti sentono... Dopo lo chiediamo anche a loro. Io credo che i bambini mi vedano come una grande amica e come una bambina, perché faccio fatica a scridarli, però quando ci vuole, ci vuole. Però dai voti? Dai voti? No, mai. Chi è che mi racconta qualcosa in più di Lori? Come la vedete? Come vi sembra? Dimmi una frase in inglese, quello che vuoi. Qualcosa che hai imparato con Lori? Tante cose, molte cose che non sapevi. Tu che classe fai? Che non sapevo. Seconda B. Mi vuoi dire solo un'attività che avete fatto? Abbiamo fatto il cibo, delle robe sulle stanze. Delle robe sulle stanze, sì. Delle stanze di cosa? Della casa. Sì, della casa. Come si... Dimmi una piccola frase sulle stanze oppure sul cibo. Perché io sono asino, non so l'inglese. Quindi lo devo confessare. Ho fatto francese e quindi inglese non lo so. Per esempio, io mi chiamo Marco, come si dice? My name is Marco. Perché infatti tu stai dicendo che io mi chiamo Marco. Sì. Ok? Passiamo il microfono a lui così chiudiamo questa... Vai. Marco... He is like fish. È giusto? Secondo voi? There we go. That's better. E ora facciamo un applauso. Molto bene, molto bene. Ebbè, insomma, si impara, piano piano si impara e se si impara soprattutto dalla scuola primaria poi si arriva da me alle scuole medie, che l'inglese finalmente si conosce e non si rimane asini come il sottoscritto che ha più di 50 anni, non ancora... Vabbè. Lasciamo stare. Chiara, quali sono le scuole del secondo circolo? E come vi rapportate fra di voi? Questo è importante. Allora, le scuole del secondo circolo sono... Le scuole primarie sono diverse. C'è Borello, San Carlo, San Vittore, l'Oltresavio e la Dante. Noi abbiamo delle riunioni mensili in cui ci incontriamo a classi parallele, quindi per classe seconda, ad esempio noi classe prima. per sezione, praticamente classe sezione. E ci confrontiamo. Esatto. Perché questo invece, per esempio, io che sono insegnante di scuola media, manca un po' questa parte di incontri. Noi ci incontriamo un po' più di rato e quindi ognuno poi segue la sua programmazione. Invece voi fate proprio incontri di programmazione. In realtà... Giusto? Sì. Ivana. In realtà la nostra dirigente ha messo in piedi questo progetto Adventura, per cui ci incontriamo spessissimo. Questo progetto riguarda tutti gli ambiti dell'insegnamento a tanti settori e ogni classe sviluppa uno di questi... tutti i settori del progetto e perciò effettivamente sì, lavoriamo insieme questi... Quindi si riesce, volendo, a lavorare insieme. Certo, certo. Noi collaboriamo continuamente. Chiara, la progettualità la vedi stimolante? Cioè, pensi che sia un buon viatico per essere più motivati, per avere bambini più interessati? Oppure è un qualcosa che va al di là? Sicuramente è un aiuto anche per crescere in maniera diversa. Facendo riferimento in International Venture, io sono nelle classi seconde, siamo al secondo anno di questo progetto e li sto vedendo crescere. Sicuramente stanno facendo un percorso diverso ai compagni che sono già in terza, quarta, quinta. Questo progetto di inglese li sta aiutando a sviluppare maggiori competenze e abilità in una lingua comunque parlata in tutto il mondo che servirà loro nel futuro per rapportarsi con gli altri. Molto bene, molto bene. Facciamo ancora un grande applauso all'opera che stanno svolgendo, che poi io continuo a dire che è una vera e propria missione, perché l'insegnamento di fatto è questo. Una volta magari si era, sì, si facevano più cose, però adesso le cose sono veramente tante, le attività sono tante, i progetti a cui si partecipa e che si mettono in piedi sono tantissimi e quindi gli insegnanti non sono solo le ore curricolari, perché molto spesso c'è questo luogo comune di dire che gli insegnanti lavorano poco, perché poi di fatto sono solo la mattina, sono poche ore. E invece veramente si lavora sprombattuto, soprattutto con una grande responsabilità che è quella della crescita. Come anche una grande responsabilità se l'è presa Romagna Solidale, una associazione, una fondazione, quindi molto più di un'associazione, che si è fatta carico attraverso una settantina di aziende romagnole, in modo particolare nel territorio cesenate, di aiutare gli altri. Quindi torniamo a parlare di solidarietà e andiamo a vedere che cosa realizza Romagna Solidale per questa cooperativa che si chiama Il Segno, ed è una cooperativa che aiuta i bambini più svantaggiati. Ha avuto oltre un migliaio di bambini ospiti in queste strutture, sono bimbi che sono chiaramente in difficoltà e che vanno aiutati. Un applauso a Romagna Solidale, subito perché veramente se lo merita, e andiamo con la regia a vedere cosa succede nella cooperativa Il Segno. L'amore, amore, amore vinto, vince, vincerà Benvenuti alla comunità Il Segno. Il Segno è una comunità educativa che accoglie minori. Sono Mafalda Garro e sono la presidente dell'associazione Il Segno che gestisce appunto cinque case di accoglienza minori, suddivise per fasce d'età, quindi da bambini molto piccoli ad adolescenti. Accogliamo minori che hanno alle spalle storie molto drammatiche e che sono stati allontanati dal Tribunale dei minori e appunto dalla famiglia d'origine e cerchiamo di fare con loro un lavoro nel tentativo di ricostruire la loro autostima e la loro dignità di vita. Grazie al contributo di Romagna Solidale abbiamo potuto far partire la casa che è alle mie spalle, che è la casa che accoglie ragazzine e adolescenti e in particolare di questa casa sarà la dottoressa Guglielmi che ne era la referente a riferirvi più particolarmente. Salve, sono Francesca Guglielmi, psicologa e responsabile della casa degli adolescenti all'interno della comunità e il segno. L'impostazione che c'è all'interno di questa casa è quella che è presente all'interno di tutta la struttura e l'obiettivo appunto è proprio quello di creare un rapporto che possa dare a queste ragazze un senso di appartenenza. Noi cerchiamo di garantire per le nostre ragazze la possibilità di dare loro una quotidianità regolare, quindi una normalità, in modo tale che questo possa renderle autonome e anche dare loro un futuro dignitoso. Allora, come abbiamo già detto ci sono cinque case di accoglienza. La prima accoglie i bambini più piccoli da zero a cinque anni. La seconda è bambini dell'età scolare, delle elementari, quindi da sei a dieci anni. Poi abbiamo la casa dei maschi che frequentano le medie e le femmine che frequentano le medie e poi la casa appunto delle adolescenti, quelle che abbiamo potuto aprire grazie a Romagna Solidale. Sono purtroppo tutti bambini allontanati dal Tribunale dei minori perché bambini in situazioni molto pregiudizievoli. Parliamo purtroppo di abusi, maltrattamenti e quant'altro. Comunque con alle spalle purtroppo una famiglia che non ha capacità genitoriali. E questi bimbi restano con noi finché il Tribunale poi non deciderà il loro destino, che può essere. A volte il ritorno in famiglia, là dove la famiglia avrà dimostrato di aver fatto un percorso positivo. Oppure andranno in adozione o in affido. Sono cooperative e comunità veramente importanti. Noi ne abbiamo ospitate tante nel corso dei nostri otto anni, delle 174 puntate. Oggi siamo proprio la 174esima e chiudiamo questi otto anni. Non ultima, pochi giorni fa è stata inaugurata Cavarei, che è un'altra comunità importantissima che raccoglie una serie di associazioni proprio di volontariato che sono solidali con i diversamente abili. Stanno creando proprio una struttura di aiuto dove i diversamente abili adulti vanno a vivere Cavarei e a Forlì. E quindi salutiamo anche loro. Come andiamo a salutare di nuovo il nostro Daniele Carloni con la sua Iperpneus e Pneus Market Romagna. Oramai siamo in procinto di rimettere le gomme stive e quindi andiamo da Daniele Carloni. Grazie a tutti. Amico è un programma presentato da Iperpneus e Pneus Market. Da oggi tanti servizi in più. Ed eccoci rientrati, una puntata molto molto frizzante, allegra, con una quarantina di bimbi della scuola primaria di Borello appartenente al secondo circolo. Ricordiamo che nel secondo circolo c'è anche la Marino Moretti, oltre a tutte le scuole che ci ha elencato la maestra Chiara. E quindi salutiamo con un abbraccio forte tutte queste scuole, sono veramente tante, con tanti bambini e tanta responsabilità da parte della dirigente Stefania Rossi, che ormai da qualche anno da Forlì si è, anzi prima da Mercato Saraceno si era trasferita a Forlì e poi da Forlì si è trasferita a Cesena, prendendo una scuola molto molto grande, con tante soddisfazioni. E invece io vengo a chiedere a voi che cosa vi piace della vostra scuola, oppure anche che cosa migliorereste. Chi è che vuole cominciare? Alza la mano, microfono a lui, Adam rispondi, ce l'hai già. Che cosa ti piace della tua scuola? Quello che mi piace della mia scuola è in pratica... Come posso intendere? Eh, intendi come ti pare, basta che intendi e ci intendiamo così più che altro. E i tanti progetti che facciamo sulle cose che dobbiamo fare... Qual è il progetto che ti piace di più? Quello che abbiamo fatto proprio sulla sicurezza in casa e a scuola. Sulla sicurezza in casa e a scuola, quindi non solo la casa con le stanze dette in inglese, ma anche la sicurezza. Sì. Chi è che mi sa dire qualcosa in più su questo progetto della sicurezza? Che cosa ti ha colpito di più? Spero che non ti abbia colpito niente, nel senso della sicurezza. Quali attività avete fatto? Ad un certo punto, a me la parte che mi è piaciuta di più delle progette è quando abbiamo mostrato i cartelloni e quando... Eh, ma in questi cartelloni cosa c'era scritto? Proprio quelle cose da non fare e quelle da fare. Me ne dici una da non fare? Tipo non picchiarsi, il bullismo, non picchiarsi. Eh, però questo non riguarda la sicurezza in casa, riguarda la sicurezza se vogliamo a scuola. La sicurezza è... Per esempio, della sicurezza in casa, che cosa ti ricordi? E di... Non accendere il gas. Infatti, non accendere il gas, non andare vicino ai coltelli, non accendere il fuoco, con gli accendini fiammiferi. In più, c'è qualcosa, qualcun altro che si ricorda? Vai, passa il microfono, Adam. In pratica? No, no, dillo tu, poi passa il microfono a tua compagna. Sì, in pratica abbiamo iniziato con i coltelli fiammiferi. Cioè avete iniziato a giocare con i coltelli, con i fiammiferi, poi... No. I saponi, i detergenti, l'elettricità, poi i calderoni. Qui vedo un sacco di bimbette con i capelli lunghi e quindi usano sicuramente il phon. Lo usano anche per più tempo. Avete imparato sicuramente a scuola, ma anche i vostri genitori vi avranno detto che... Il phon non va nell'acqua. Il phon non va nell'acqua, sì, perché non è un pesce, come prima. Che bisogna stare molto attenti alle cose che ci circondano, ad esempio ai detersivi, e al fuoco, alle pentole. Eh, ma questa cosa del phon, per esempio, tu dove lo usi? Quando lo usi in bagno? In bagno. Una cosa che non bisogna mai fare? Mai farlo cadere in acqua, perché se no succede un guaio. Eh, succede un guaio molto grosso, ma soprattutto non aprire l'acqua con il phon in mano. Perché molto spesso questa cosa, uno non ci pensa... Scivolare. Prendi il microfono, dillo. E poi anche... Scivolare il phon e va nell'acqua mentre tu l'hai aperta. È vero, è vero. Oppure tipo anche... Sempre, guarda sempre... Guarda sempre di là, ma non c'è nessuno, sono 25 mila. Prova a dire... Giochi col computer? Eh. Ti puoi appoggi di fianco al computer in una bibita, non la devi appoggiare lì. Se no, se tipo si rovescia, ti prendi la scossa. Ecco, questo è un altro aspetto, lo sapevate? Perché anche il computer dentro ha dei circuiti elettrici. Umberto. A me della scuola piace il progetto che abbiamo fatto in classe. Quale? Che hanno deciso le maestre. E qual è? Si chiama Lely Giocando. Lely Giocando? No. Lely Giocando. Vai. Dimmi che cos'è. Allora, praticamente noi facciamo l'eligione mentre andiamo in palestra. Facciamo l'eligione, però mentre giochiamo. Dillo alla telecamera, guarda. Saluta Salvo, che è il cameraman. Saluta, lo saluti. E quindi il Rely Giocando cosa succede? Allora, noi andiamo in palestra, facciamo delle cose con il maestro. Allora, giochiamo con il maestro Giacomo, però allo stesso momento stiamo imparando. Siete incalando. Imparando. Ah, imparando. Imparando. Scusa, non sono io che non capisco niente. Ma perché stavo pensando alla bimba di fronte a me, infatti vorrei un cavalletto per tenere un po' il braccio in alto, perché è tre ore che sta col braccio in alto, quindi passiamo il microfono di fianco e lei di fianco a te. Non uscire di casa con il forno acceso. Non uscire di casa con il forno acceso. È mai capitato alla tua mamma? No. Quindi te ricordaglielo sempre, anche al babbo, perché i babbi, anche io sono babbo, a volte siamo distratti. E' vero mamme che i babbi sono distratti? Sì. Sapevo. Infatti. Passa il microfono anche dietro, dopo te lo ridà a te. Vai. Che non bisogna… dai, come posso spiegarlo? Quale le tue parole? Che se tu tieni una bibita in mano, mentre stai giocando al telefono ti potrebbe cadere e ti potresti bagnare. Cioè la bibita sul telefono o il telefono dentro la bibita? Perché cambia la cosa. La bibita che ti cade addosso. La bibita che ti cade addosso. E quindi ti bagni però il telefono? Si bagna anche lui. Si bagna anche lui. Ok, adesso vi faccio un'altra domanda. State bene attenti, eh. Non voglio infierire sulle maestre perché volevo farvi dire qualcosa sulle maestre, ma forse ce la faremo, sì, sì, forse ce la facciamo prima della fine della puntata. che cosa… questa è la domanda più classica di sempre, perché a me me la facevano sempre quando ero piccolo e io rispondevo sempre allo stesso modo, perché tutti i nostri genitori avevano questo sogno, tutti quelli che sono nati negli anni 60 e 70. Che cosa volevo fare secondo voi io da grande? L'astronauta. L'astronauta. Facciamo l'applauso all'astronauta a lei. Come ti chiami? Come ti chiami? Lucrezia. Lucrezia. Adesso però io vi faccio una domanda difficilissima. Non lo so se riuscirete a rispondere, ma chi riesce a rispondere è un mito. Vabbè, siete tutti miti, però diciamo che è un mito-leggenda. Perché secondo voi negli anni 70 tutti noi bambini man mano che crescevamo volevamo fare l'astronauta? Perché era il periodo dove lanciavano molte… Dai, dove lanciavano? Missione. Guarda, io non ho parole. Voglio fare un applauso a questa bimba. Lo so, ma adesso ve lo dico perché. Adesso ve lo dico perché. Io voglio fare un applauso a lei, ma sono sicuro che molti altri sapevano il perché. Perché facevano molte missioni. Ma questa volta è una rivincita contro la regia che nel mio auricolare mi ha detto non lo sanno, è troppo difficile, non lo sanno. Non posso rispondere a questa domanda. Alla seconda, presa. Bravissima. Chi altro lo sapeva? Alzate tutti le mani. Tutti quanti lo sapevano. Bene, molto bene. Allora, lo sapete che cosa è successo? Altra domanda difficilissima. Nel 1968, a proposito delle missioni, microfono a lui, maglia verde, vai. 68 era? 69. 69, scusate. Vabbè, sono andato nel 64, perché nel 68 ero piccolo, avevo 4 anni. Vai. Il primo uomo è atterrato sulla Luna. Anche questo ha detto la regia che non lo sapevate. Allora, ragazzi, cioè, qua, scusa, eh, qui bisogna che ci chiediamo. Siamo nella scuola primaria di Borello. Non è che siamo nella scuola primaria Bau Bau Micio Micio, è vero? Genitori, applaudiamo la scuola di Borello. E adesso tocca a voi. Facciamo una rapidissima carrellata col microfono. Adesso passate le mani perché parlate tutti. pensate solo a cosa volete fare da grande. Parte lui, parti tu, poi passi il microfono, poi lo passi sopra e andiamo in cerchio. Ok? Vai. Cosa vuoi fare da grande? L'architetto. L'architetto. Passiamo. Ci hai pensato? No. Pensa. Cosa vorresti fare? Un sogno. Giocatore di basket. Giocatore di basket. Andiamo avanti. Calciatore. Calciatore. Contiamo i calciatori, eh, maestre, contate. Calciatore. Due. Andiamo dietro. Calciatrice, no? Guardia forestale. Guardia forestale, incredibile. Vai. La veterinaria. Veterinaria. Fa un bel sospiro, eh. Vai. Cosa vorresti fare da grande? Non me lo vuoi dire, eh? Ci vuoi pensare? Dai. L'estetista. L'estetista. Dolcissima, vai. La maestra o la cantante? La maestra o la cantante? O la maestra cantante? Che maestre cantano? Vai. La pasticcera. La pasticcera. L'agricoltore. Calciatore. Calciatore. Beh, ecco, la tuta del Napoli. Mi meravigliavo se volevi fare il pallavolista. Vai. Andare su Marte. Andare su Marte. Quindi la marziana. La marziana. Vai. La fioraia. Fioraia. La maestra d'asilo. Maestra d'asilo. La ballerina. Ballerina. La pittrice. Vai. Dai, scherzo. Dillo. Non ti viene in mente niente? Qui non c'è ancora pensato. Vabbè, ma è mica obbligatorio pensarci, eh. Passiamo di qua. Dopo ci pensi, se ti viene in mente ve lo dici. Il microfono ce l'hai tu? Ti faccio una domanda veloce. Lo sai che la guardia forestale dal primo gennaio 2017, cosa è successo quest'anno? Te l'ha detto? Riccardo lo sa? Praticamente la forestale sta tipo con i carabinieri perché il generale della guardia forestale diventa dei carabinieri. Scatta l'applausone. Però il dubbio sorge spontaneo. Ma perché ti è venuto in mente di fare la guardia forestale? Mi piace troppo. Perché ti piace? Ma come hai fatto a conoscere la guardia? Perché ogni anno vado in montagna. Perché se io chiedo a Lucrezia, scusa, hai conosciuto la guardia forestale? E mi dice, no, chi è la guardia forestale? Ogni anno vado in montagna, nei boschi a fare dei passeggiati. E quindi sai che adesso sono tutti carabinieri. Anche se voi vedete una macchina verde, che era la vecchia macchina della vecchia forestale, dove c'è scritto adesso carabinieri, sapete il motivo. Ok? Prego, Stellina, vai. La ginnasta ritmica. Si vede. Ti puoi alzare? Vieni, ti do la mano. Inquadriamo. No, no, stai su, stai su. Ecco. Cos'è che vuoi fare? La ginnasta ritmica. Ginnasta ritmica, si vede, insomma. Prego, vai. La parrucchiera. La parrucchiera, andiamo avanti. La paleontologa. La paleontologa. Oh, ma che fate a questi bambini? Non è vero, non siamo più tempo. Vai. La fashion blogger. La fashion blogger, spettacolo. Adam. Lo scienziato. Lo scienziato. Infatti anche io ero un po' incerto fra l'astronauta e lo scienziato. La cuoca. La cuoca. La cuoca. La cuoca, quindi due cuoche. Siete compagni di banco, gemelle, amiche per sempre, best friend. Si può dire, Lori, best friend. Si può dire. Bene. Passiamo da questa parte, la squadra Umberto. Però Umberto, passa il microfono a lui, così è il primo che lo dici. Il calciatore. Calciatore so tre, contate. Quattro, scusate. Allora, io guardia forestale. Anche tu. Sì, mi piace tanto la natura. Bravissima. Maestra. Maestra. Camionista. Camionista. Ballerina. Ballerina. Ballerina due. Ballerina tre. La scienziata. La maestra. Maestra. Calciatore. Cinque. Calciatore. Sei. C'è un piccoli. Non ho capito. Ingegner. La gelataia. La gelataia. Ingegnere. Ingegnere. L'ingegnere. Io vorrei fare il carabiniere o il prof di matematica. Hai capito, grande. Io il costruttore. Il costruttore. La guardia forestale. La guardia forestale. E anche io vorrei insegnare matematica. E anche un'altra cosa. O il professore. Che cos'è che avevi detto? Il professore di matematica o il carabiniere. Ma perché di matematica? Ma tu lo sai che ci sono alcuni progetti. Guarda, adesso ve ne racconto una che non lo so se lo sapete. C'è un progetto che si fa con le classi prime. Che viene realizzato nella, credo nella provincia di Forlicesena. Ma penso che sia anche. Il trauma che la matematica può causare sui bambini della primaria. Cioè adesso io, di prima elementare addirittura. Cioè io voglio capire, adesso, io non ero un matematico, non lo sono e non è la mia materia preferita. Però si potrà fare un progetto sul trauma che può causare la matematica? Facciamo un applauso al prof di matematica. Ai prof, perché poi erano di più. E adesso chiudiamo con questa sorpresa che è per le maestre e i genitori presenti. Che cosa, posso chiederti la professione che fai, che lavoro fai? Adesso sono disoccupata, facevo l'impiegata. Che cosa avresti voluto fare da grande quando eri piccola? Beccate. La pubblicista. Pensavano, hai capito? La pubblicista. Lori. Addestratrice di cavalli. Addestratrice di cavalli. Lo sapevate voi che avete sempre Lori? Addestrati cavalli. Ah, hai visto quante cose? Io fin da piccola giocavo con le lavagnette, quindi maestra. Era una cosa che c'era la lavagnetta dentro la culla. E' come i calciatori che nascono col pallone dentro, perché il papà gli mette il pallone dentro la cuccia. No, la culla, no, la cuccia. Vai. Anch'io non avevo dubbi, l'insegnante. L'insegnante. Allora facciamo un applauso globale. Un applauso globale a tutto ciò, a tutte le future professioni, dei nostri alunni della scuola primaria di Borello, ma più in generale. Tanto ne abbiamo sentite tutti, a tutti gli alunni che sono stati qui in studio in questo palinsesto, in questa stagione televisiva 2016-2017. Abbiamo chiaramente parlato tutti insieme, quindi siamo tutti amici, anche se tutti amici non si può essere. Però Matteo Maducci e Salvo Conti sono tornati nella scuola di Borello proprio per parlare di amicizia. Andiamo a sentire cosa hanno risposto i ragazzi. L'amore, amore, amore ha vinto, vince e vincerà. L'amore, amore, amore ha vinto, vince e vincerà. È importante perché ti sta sempre vicino, ti aiuta nei momenti difficili, cioè questa è l'amicizia per me. Dopo sei tanti amici, dopo ti possono prestare tante cose. Sì, molto. Perché l'amicizia è quando tu hai un amico vicino che nel momento del bisogno è sempre pronto ad aiutarti, a condividere le cose con te. Perché almeno vi fate gli amici, state più con gli amici che con gli insegnanti. Secondo me è molto utile l'amicizia, almeno o se tu stai male, fai qualcosa, che hai un amico, ti viene a casa tua e ti dà una mano. Io mi aspetto che mi aiuti, che quando sono in difficoltà mi venga a dare una mano. Anche quando non so cosa fare mi può aiutare. Di solito sono io che vado ad aiutare i miei compagni. Perché io più delle volte ho molti amici, mi sento bene. Facciamo giochi, impariamo delle canzoni. Da un amico mi aspetto la sincerità. Mi aspetto soprattutto che sia sempre, non dico gentile, ma che non sia arrogante e che sia sempre pronta ad aiutare chi ha bisogno. Che mi aiuti quando sono in difficoltà e io l'aiuto anch'io quando lui è in difficoltà. In assoluto essere picchiato e offendere soprattutto la famiglia. Io ho fatto il pesce da te, dategli un calcio nel culo, nella schiena di mio fratello. Uno scherzo per esempio dei voti che magari se avete d'accordo con la maestra e magari una verifica in cui avevo studiato molto mi dà un voto basso, in verità era uno scherzo. Se succede se mi arrabbiare molto perché mia mamma se prende un voto basso mi dà subito in punizione. Beh è che racconti, che racconta male di me diciamo. Tipo io sto parlando con un'amica e dico cose belle di lei, però lei va a riferire che io ho detto cose brutte di lei. Quando mi prendono in giro fanno finta che non esista. Il giorno più bello era quando io ero arrivato il primo giorno di scuola, che avevo visto tutti i miei compagni. Dopo abbiamo fatto tante amicizie, tanto allegro, quello lì era stato il mio giorno preferito. Il primo perché dopo ci siamo conosciuti e abbiamo fatto tanta amicizia. Siamo andati alla fattoria didattica, abbiamo visto dei cavalli, degli asini, dei poni. Mi sono divertito molto, molto nelle gite però quella che mi sono divertito di più una volta è quello che siamo stati a Sarsina. Siamo andati in un museo, c'era una guida che si chiamava Tamara che ha fatto anche un laboratorio con noi. Ci ha spiegato tutte le cose dei romani, però in verità mi sono divertito più nel pullman. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Non lo so, quando un mio compagno di classe, eravamo lì che stavano giocando, c'era anche lui, però non stava giocando con me, stavo giocando con altri due bambine. Praticamente ero davanti alla porta del bagno delle femmine, che tutti non vogliono entrare i maschi perché dicono che è una cosa vergognosa, ma non bisogna vergognarsi. Perché c'entriamo anche molte volte quando facciamo i progetti di scienze per non andare dall'altra parte della scuola. Sì, sì, più comodo. E praticamente stavano giocando, ero lì proprio prima della porta. Lui è arrivato, mi ha spinto e ha detto, ha iniziato a parlare a tutta la scuola, ah, è entrato nel bagno delle femmine. La verifica di storia. Un po' di tempo fa. Avevo studiato, però era molto difficile la verifica. Ho preso sempre un bel voto, però è stata dura. E una volta, quando ero nel pulmine, mi sono accorta che mi ero scordata dei libri e avevo paura che la maestra mi sgridasse. E l'ho detto alla maestra e la maestra mi ha fatto recuperare per i giorni dopo. Sì, c'è stato un giorno in cui non è stato bellissimo. Avevo portato due foglietti dove c'era una cosa un po' privata in me. Il mio compagno me l'ha preso e me l'ha fatto vedere la maestra. Io ci sono rimasto male un po' per anche il mio amico, perché lui, la maestra l'ha sgridato molto, però mi sono vergognata anche un po'. No, la maestra non l'ha letto. No, era un disegno. Amore, 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 vinto, vince e viscerà. E come vedete qui è successo qualcosa. Per la prima volta tutti i genitori che non volevano essere ripresi in tutte queste 174 puntate le abbiamo messi insieme a noi. Così abbiamo avuto la rivincita dei bambini che volevano fare la trasmissione insieme ai loro genitori. Siamo, che dire, in conclusione, siamo in conclusione di questa stagione televisiva. Sì, siamo allegri, però anche un po' tristi, perché quando si chiude poi una trasmissione così, dove sono intervenuti più di 500 ragazzi, ma nelle 174 puntate sono intervenuti quanti bambini? Dillo al microfono. 6.960. Maestra, gli diamo un 10, quindi ricordati domani di dargli questo grande voto. Noi salutiamo tutti, ringraziamo in modo particolare gli ospiti di oggi, la scuola, il secondo circolo di Cesena con la scuola primaria di Borello, con le maestre Chiara Ivana, con Eleonora, con Lori dell'Associazione Famiglia in 3D, ma soprattutto vogliamo anche salutare tutti coloro che hanno reso possibile questa trasmissione, quindi tutti i tecnici, la regia, i cameraman, e in modo particolare li vogliamo ricordare uno a uno. E allora, Adam, prego. Il reggia Marco Bernabini, Alberto Pantoli, Ivo Poggi, Roberto Gambaletta, alle telecamere Salvo Conti, Romano Natali, Deris Ulivi, Mauro Maffucci, Daniel Mercatali, Alberto Pasi, Gaetano Genovese. E allora facciamo un grande applauso a tutti coloro che hanno reso possibile la nostra amico E quest'anno, ma in modo particolare un saluto affettuoso alla conduttrice Pia Perziani, che insieme a me ha condotto oltre la metà del palinsesto, 12 puntate per la precisione, ma soprattutto un grande abbraccio al nostro giornalista, al nostro cameraman, a quello che più si è speso insieme a Salvo Conti per girare la Romagna e andare a documentare tutto quello che è successo e tutto quello che succede nelle scuole, nelle società sportive. Mi riferisco a Matteo Amaducci. Facciamo un grande applauso a Matteo, che è un vero maestro, un guru, è stato anche l'ideatore di Amico E, una volta si chiamava Amico Sport, Amico Scuola, e insieme a Daniele Carloni siamo in conclusione anche di questo ottavo anno, 174 puntate, veramente un abbraccio a tutti, arrivederci al prossimo anno, ciao a tutti! Ciao a tutti! Siamo soli a combattere questa realtà Credo negli esseri umani Credo negli esseri umani Credo negli esseri umani L'amore, amore, amore ha vinto, vince, vincerai L'amore, amore ha vinto, vince, vincerai